Prima di parlare degli argomenti di giornata volevo fare una precisazione per quel che riguarda la situazione romagnoli. Ieri nei commenti al video vi ricordate che abbiamo parlato della possibilità che magari sia romagnoli il sacrificato nell'ottica della plusvalenza piuttosto che donna ruma. Abbiamo scritto avete scritto insomma avete chiesto un po' il discorso della plusvalenza, il discorso della percentuale che la Roma, squadra dalla quale abbiamo acquistato romagnoli, incasserà nel momento in cui noi eventualmente venderemo il nostro capitano. Allora siccome ci sono scritte un po' di imprecisioni, qualcuno l'ha anche scritta giusta, volevo mettere in chiaro una volta per tutte qual è la situazione di romagnoli. Allora la Roma da contratto avrà diritto al 30% dell'eccedenza sopra i 25 milioni di euro. Mi spiego meglio, se noi vendiamo romagnoli ad esempio a 30 milioni di euro la Roma prenderà il 30% sui 5 milioni di euro. Questa è la situazione. Quindi la Roma non ha diritto al 30% sull'importo di un'eventuale futura cessione di romagnoli ma sull'eccedenza 25 milioni di euro. Quindi costo di vendita meno 25 milioni di euro, 30% su quella parte lì. Questo tanto per chiarire un po' la situazione. Situazione dunque eventualmente di mercato, poi staremo a vedere perché su Donna Roma si è tornato a parlare del Paris Saint Germain, di un'insistenza, poi sono uscite vecchie cose relativa al fatto che i parigini gli avrebbero offerto 13 milioni di euro l'anno, la villa, la limousine, tutte queste cose molto olivudiane ma poi probabilmente anche vere visto che sappiamo un po' che c'è una grandeur non solo di Parigi ma anche dei suoi proprietari e quindi, boh, non lo so, vedremo che cosa succede. Si continua a ovviamente ipotizzare una cessione di Londra Roma ma sappiamo che si deve anche scrivere in questi giorni e le considerazioni da fare secondo me sono un pochino più dettagliate e qui ne abbiamo già parlato. Parlando di mercato però ieri sono uscite due notizie, la prima, anzi tre direi, la prima che mica mi è piaciuta tanto, cioè sulla possibilità, eventualità e quasi certezza che Rangnick abbia dato l'ok per trattare Mario Goetze. Allora voi sapete benissimo come la penso io su Goetze, non voglio nemmeno perderci tempo, non lo voglio vedere al Milan, è un giocatore che non ci serve, è un giocatore fragile sotto tutti i punti di vista, tralasciando il fatto che prende uno sproposito di ingaggio, ma un giocatore che nella sua carriera ha avuto praticamente pochissime luci e tantissime ombre, per cui direi che possiamo passare oltre, tra l'altro ragazzo anche di, come dire, un po' di difficile collocazione in campo, non lo vedo nemmeno tanto adatto al gioco di Rangnick, per cui mi sembra una sparata, mi sembra un po' una di quelle cose di cui ogni tanto vi ho parlato, cioè il fatto che gli agenti pompano i propri assistiti in modo da farli sembrare appetibili a determinati club, poi in realtà le cose non stanno proprio così. Non stanno forse così nemmeno le cose relative a Ozymane, l'attaccante del Lille, che a voi piace molto, a me un po' meno, ma in ogni caso nei giorni scorsi era uscita la notizia che qualche club avrebbe presentato un'offerta da 85 milioni di euro per l'attaccante al Lille. Ieri sera sembra che si sia finalmente svelata l'identità del club, il club è il Liverpool, ma perché dico che non ci credo molto? Scusate, perché il Liverpool sta trattando Timo Werner, mi sembra abbastanza, non dico ufficiale, ma quasi, visto che Werner ha detto che al Bayern non andrà, sappiamo che ci sono stati dei contatti molto intensi tra il suo entourage e il Liverpool, per cui non credo che la destinazione sarà quella. Non credo che la destinazione sarà il Milan, nemmeno per Jose Fatal, che ieri in una diretta Instagram con Benasera ha indossato la maglia del Milan, quindi abbiamo potuto vederne l'effetto che fa con i colori rossoneri, cosa che tra l'altro abbiamo potuto fare negli ultimi anni, visto che gioca a Nizza, Nizza ha la maglia rossonera, ma vabbè, in ogni caso sembra che la richiesta del club sia quella di 40 milioni di euro, naturalmente impossibile per noi, ma credo impossibile in generale, nel senso che queste valutazioni poi alla fine danneggiano anche il giocatore, perché il ragazzo è bravo, sapete che è uno dei miei nomi preferiti per la fascia destra, però una valutazione del genere sinceramente mi sembra spropositata e ripeto, non fa nemmeno il bene del giocatore. Invece la notizia del riscatto di Kier, che ieri sera è stata rilanciata da alcuni media spagnoli, mi sembra tutto sommato una scelta intelligente, una scelta saggia, 2 milioni e mezzo di euro la cifra del riscatto, credo che per un giocatore di esperienza che ha già fatto un periodo a Milanello, che comunque conosce il calcio italiano come riserva, ci può anche stare, d'altronde non è che potremo andare a comprare 50 giocatori la prossima estate, tanti di quelli che ci sono rimarranno, tra questi Kier mi sembra. Sinceramente il meno peggio. Per quel che riguarda Jovic, meno insistenti le voci tra ieri e oggi, ma in ogni caso sappiamo che c'è un interesse del Milan, è uscita la notizia però di un possibile interessamento del Newcastle. Allora sapete che quando sento che ci sono squadre inglesi o certi giocatori, io comincio un po' a preoccuparmi, perché questi hanno una potenza di fuoco ovviamente di convincimento anche molto più alta rispetto a noi. Tra l'altro Newcastle che sta per essere ceduto a un fondo dell'Arabia Saudita, per cui è evidente che vorranno anche mettere dei nomi importanti per il loro ingresso nel calcio inglese. È chiaro che sappiamo ancora che il calcio britannico purtroppo per noi, essendo il mercato dei diritti televisivi deregolato a livello globale, ci sono poi queste disparità. Ecco un altro punto sul quale si potrebbe andare a intervenire tra l'altro, perché io capisco la capacità di vendita di un prodotto, capisco l'evoluzione che hanno messo in atto in Premier League, sono stati molto bravi, sicuramente molto lungimiranti, però poi queste disparità creano ovviamente non solo un mercato drogato, ma anche delle divergenze clamorose da un punto di vista di ingaggio, da un punto di vista di costo di cartellino e quant'altro, per cui si potrebbe andare a intervenire pure lì. Ma insomma, in ogni caso, Voices. Veniamo al tema di giornata, e cioè alle parole del nostro futuro possibile potenziale, quasi certo, manager barra allenatore Ralf Rangnik, perché ieri ha rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco Mitteldeutsche Zeitung, dove parla esplicitamente di Milan, e lo fa attraverso delle parole che suonano assolutamente come un messaggio rivolto all'amministratore delegato o più in generale, diciamo, alla proprietà del Mina. Perché da un lato parla di un rallentamento dovuto al fatto che c'è stata l'epidemia e questa cosa ovviamente ha portato a pensare a cose più importanti, bla bla bla, ma soprattutto la seconda parte dell'intervista che a noi ci interessa. Adesso ve la leggo, poi noi parliamo. Allora, alla domanda del ruolo che avrà Rangnik al Milan vi risponde, dipenderà dalle richieste del Milan. Io non sono particolarmente interessato agli aspetti finanziari. Ciò che conta è avere una certa influenza nelle scelte, che non ha nulla a che vedere col potere in sé, anche se a volte è necessario per portare avanti determinate idee. Allora, sapete che io le esegesi dei discorsi le lascio anche perdere, non mi interessa entrare nel perché ha detto quella parola in quel momento, però il senso del discorso, secondo me, è molto chiaro. Cioè, il senso del discorso è, io sono pronto a venire al Milan, ci siamo già messi d'accordo, eccetera, eccetera, però voglio che il Milan chiarisca la posizione di Paolo Maldini. Questo è il messaggio. Cioè, io vengo, ma vengo per dirigere. Non voglio avere figure ingombranti che possano in qualche modo ostacolare quella che è la mia idea di costruzione del progetto Milan, che sarà un progetto biennale, forse triennale, più probabilmente, ma che dovrà essere fatto come dico io. Infatti lui dice, io voglio avere influenza nelle scelte, a me non interessa il potere in sé, però a volte è necessario, perché ovviamente dice, se io devo condividere la poltrona con una figura come quella di Paolo Maldini, che al di là delle valutazioni che faremo sul suo operato, eccetera, però è un nome importante nella storia del Milan, le cose potrebbero non funzionare. E quindi sta dicendo, cara dirigenza del Milan, fate una cosa, trovate il modo più elegante, più civile, ma anche più rapido, per porre fine, diciamo, all'esperienza di Maldini dirigente, che comunque sappiamo che la proprietà non vede proprio di buonissimo occhio, ma è inevitabile, questo l'abbiamo capito tutti, perché questa visione è figlia di risultati che non sono arrivati e figlia anche della responsabilità che Paolo ha in questa cosa, perché certe scelte sono sue, certe scelte sue dirette, certe scelte avallate, per cui è chiaro che lui poi si farà il conto e le sue responsabilità gli verranno presentate, ma insomma Rankin ci sta dicendo questa cosa. Tant'è che oggi poi sulla Gazzetta dello Sport, di riflesso naturalmente, a queste parole, arriva Maldini praticamente fuori dal Milan, Maldini verso l'addio a fine stagione, tutto dipenderà dall'incontro con Gazzidis, ma ormai sappiamo che questi incontri con Gazzidis servono semplicemente a salutarsi per Maldini e penso anche per Ibrahimovic. Maldini dirà di no anche se Gazzidis gli proporrà un ruolo in ogni primissima linea, beh chiaramente lo sappiamo perché Maldini è venuto per fare quello che sta facendo, l'ha sempre detto, l'ha sempre detto, cioè che lui sarebbe entrato in società Milan solo a fronte di una posizione importante ed è un po' quello che ci sta dicendo Ragni, cioè ci sta dicendo la stessa cosa. Lui viene al Milan, verrà al Milan, ma lo farà esclusivamente o quasi, anzi no, senza quasi, esclusivamente se avrà pieni poteri. Naturalmente pieni poteri anche nella decisione del suo staff, perché noi non abbiamo mai parlato, ma questa è una cosa da tenere in considerazione, Ragni si porterà delle persone, quindi c'è anche tutto questo aspetto che ovviamente va a impattare anche da un punto di vista economico, che dovrà essere ben valutato e ben organizzato. Per cui io credo che si comincino pian piano ad aprire le porte delle vere notizie, adesso ovviamente prima sapremo il destino della stagione e prima faremo di conto e andremo a organizzare meglio la prossima. Due cose veloci, la prima è che dalla Germania un giornalista di Dazon dice che i tifosi del Milan dovrebbero essere entusiasti di Ragni, che è una delle figure più influenti nel calcio tedesco moderno. Vabbè, sono su parere. L'ultima cosa con la quale vi saluto è invece una mia idiosincrasia, cioè io quando leggo certe cose provo un'irritazione fisica. Certe cose sono, anzi questa cosa è, il borsino percentuale delle possibilità che un allenatore rimanga al Milan. Siccome ho letto un editoriale ieri dove si diceva che pioli piccole percentuali in lieve risalita rispetto a che invece è il grande candidato. Ora io quando sento queste cose provo anche un po' di pena per queste persone che le scrivono. Cioè com'è possibile che la valutazione del lavoro di un allenatore professionista ai massimi livelli possa subire delle influenze o delle variazioni che portino addirittura a determinarne la conferma o meno in base a percentuali che possono variare ogni giorno. Cioè questa è una cosa veramente che mi fa andare ai pazzi, poi ditemi anche voi che cosa ne pensate, ma io 10%, 15%, 18%, cioè posso capire che sia un gioco giornalistico nel momento in cui si parla di qualcuno che verrà. Quindi possibilità per uno, per due, per tre e per il quarto, no? Ecco. Ma per uno che c'è già. La possibilità di rimanere o no è una decisione che è già stata presa, che viene presa in maniera seria, perché per quanto la nostra dirigenza non sia, come dire, quella di primissimo piano per via dei risultati non ottenuti, non posso credere che valutino il lavoro, l'operato con le percentuali che variano di giorno in giorno, di settimana in settimana. Questa è una cosa che mi fa veramente infuriare. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Soprattutto le parole di Ragniche, voglio sapere la vostra opinione e come avete inteso questa intervista. Mettete un like al video, iscrivetevi al canale che stiamo cavalcando alla grande verso i 2000 iscritti, vi ricordo, 2000 iscritti, cominceremo a fare le prime live serali. Passate una buona giornata e alla prossima.